Emiliano Mazzocco, evidentemente voi siete cresciuti, a parte con il sapore aspro delle volte quando si usava ancora l'inchiostolo della tipografia, tu te lo ricordi sicuramente, io me lo ricordo molto bene, però siete cresciuti, a parte con quel sapore, anche con evidentemente la passione per lo sport, per il calcio in particolare. Sì Antonio, siamo cresciuti, divisi sostanzialmente tra la tipografia, quindi tra l'odore dell'inchiostro, della stampa, perché sostanzialmente dal lunedì al venerdì dopo scuola si passava sempre in tipografia e poi invece il sabato e la domenica si passava sui campi di calcio, prima qui a Cerra Volturno, seguendo la Cerrese e poi pian piano siamo cresciuti, pian piano che poi papà Luigi si è sposato la causa dell'Isernia, abbiamo seguito l'Isernia in tutte le categorie in cui ha giocato. Ecco quindi è giusto, insomma questo ricordo per me, questo è il modo migliore per ricordarlo. Noi l'abbiamo fatto, se ti ricordi, anche nell'edizione di Tele Molise nel cuore di due anni fa, però insomma il campo di calcio, lo spogliatoio, sono probabilmente i luoghi migliori per ricordare Gigino che è stato, io lo ricordo benissimo, veramente un grandissimo appassionato. Esatto, sì, ricordo bene sia due anni fa a Molise nel cuore la premiazione che ci ha commosso e ricordandola ancora ci vengono ecco i lucciconi. Però sicuramente il campo, non posso dire più del profumo dell'erba perché qui oramai con questo sintetico, è un sintetico bellissimo di nuova generazione, però le emozioni sono sempre le stesse, quando ci sono 22 giocatori dietro un pallone, le emozioni sono sempre quelle in qualsiasi campo, che sia il campo di una volta in terra battuta, che sia un sintetico, che sia un campo in erbetta. Quindi è il modo migliore per ricordare una persona come papà che nel calcio hai messito praticamente al di là del lato imprenditorale, dell'azienda, tutta la sua vita sostanzialmente. Sicuramente, poi io e te abbiamo anche un'altra passione in comune, quella però ce la teniamo stretta in segreto perché abbiamo una passione, diciamo, viola, no? Sì, abbiamo una passione in comune, secondo me in Molise dobbiamo contarci sulle punta di due mani e forse arriviamo a 10 anni di persone e ti fa un ferendia, no? No, a parte di scherzi, quella è un'altra passione che mi porto dentro. Devo dire che non è stata trasmessa da mio padre perché lui non aveva il tifo, diciamo, la fede viola, però io mi sono appassionato per dire negli anni, diciamo, di Batistuta, dopo Antonioni, ecco, con il primo Baggio e con Batistuta, quindi da lì è venuta questa fede viola e che condiviamo e che speriamo un giorno ci porta qualche gioia. Qualche gioia perché ultimamente, diciamo, con le tre finali verse in due anni non è che proprio ce ne sta portando. Va bene, quindi insomma, anche questo è un modo per ricordare tuo padre? Sì, sicuramente, diciamo che con papà diciamo le due cose, il mondo del lavoro con l'azienda, con la grafica esernina e il mondo del pallone, però noi cerchiamo di fare ogni anno un passo in più, siamo contenti che quest'anno tutti e due ha portato bene il Memorial dell'anno scorso perché le due squadre che si stanno affrontando questa sera hanno vinto tutti e due il campionato, quindi speriamo che, chi lo sa, possa essere di buon aspicio o comunque di fare sicuramente bella figura nei due campionati di riferimento.